E allora partiamo subito con i collegamenti, vedo già collegato Matteo Legittimo che è difensore, insomma riconfermato in questa stagione, lo vedo già qui sul nostro ledwall, e allora bentrovato Matteo. Salve, buongiorno a tutti, ciao Mario, buongiorno. Ciao Matteo, che ha giocato nel Barletta, lo ricordo, nel stagione 2009-2010, era un po' più giovane, Matteo ero più giovane io che seguivo. Eri molto più giovane tu, lui diciamo si è mantenuto molto bene, diciamo direi. Eravamo più giovani tutti, esatto, esatto. E allora Matteo partiamo subito con raccontare un po' questa attesa di questo inizio di campionato, c'è davvero tanta attesa, tu la vivi anche dall'interno, non vedete l'ora insomma in qualche modo di cominciare questa stagione, come viste insomma le premesse per il Casarano, ma naturalmente anche per diverse altre squadre di questo Gironi H. Sì, come hai detto tu c'è grande attesa perché poi è importante vedere all'opera sul campo tutte le squadre e tutte le avversarie. Chiaramente noi insieme anche ad altre tre squadre, come dicevate voi in precedenza, si è costruita una rosa importante, però come ho detto prima bisogna vederle sul campo. Chiaramente ci saranno anche delle sorprese come ogni anno, però l'attesa è tanta, speriamo noi di fare bene. Sappiamo che squadra è stata costruita, sappiamo le ambizioni della società, le ambizioni della piazza e cercheremo di fare il massimo. Matteo, stesso adenatore della passata stagione Giuseppe La Terza, stesse ambizioni, il Casarano vuole andare sicuramente in serie, vuole mettercela tutta per riuscirci. È un Casarano molto più forte rispetto a quello dello scorso anno, è chiaro, conterà solo e soltanto in campo, però che sensazioni ti dà questo organico? Io lo scorso anno sono arrivato a campionato in corso, quindi la squadra all'inizio non la conoscevo benissimo. Sicuramente quest'anno si è decisi di ripartire da mister La Terza, dando continuità al lavoro fatto lo scorso anno. Come dicevo prima Mario, l'attesa è tanta, sappiamo di essere una squadra importante, una squadra forte, però poi sarà solo il campo a decidere se questo Casarano è più forte dello scorso anno o viceversa. L'entusiasmo dei tifosi, c'è sicuramente bagno di fole in occasione della presentazione ufficiale al Capozza e sempre il Capozza domani ospiterà il ventesimo nella nuova stagione. Ora è 19, il fischio d'inizio, Casarano che affronta il Zambiase, la squadra che ha eliminato sei giorni fa il Brindisi proprio nel preliminare di Coppa. Ma è una partita, Matteo, che vi interessa? Ci tenete a far bene? Oppure per voi conta solo e soltanto il campionato di Serie D? No, è una partita a cui ci teniamo a far bene anche perché è la prima davanti al nostro pubblico. Come hai detto prima tu, c'è tanto entusiasmo, si è potuto notare anche dalla presentazione che abbiamo fatto in settimana. C'è davvero tanto entusiasmo e tanta attesa, quindi affronteremo la partita nel migliore dei modi cercando di superare il turno. Che effetto fa avere lo Iodic e Malcore dalla propria parte? Sicuramente fa più piacere averli con sé che con gli avversari. Ci aspettiamo tanto da loro, anche loro sono consapevoli di quello che la squadra, la società dei tifosi si aspettano da loro, però sono due bravissimi ragazzi e sono sicuro che daranno il meglio quest'anno per cercare di raggiungere l'obiettivo. Perfetto, perfetto. E allora io saluterei, insomma, Matteo, legittimo, lo ringraziamo e naturalmente un in bocca al lupo per l'inizio di questa stagione che sarà sicuramente appunto molto lunga e faticosa, direi. Crepi il lupo, grazie e buona giornata. Grazie Matteo, a prestissimo. A prestissimo, dai, a prestissimo.